Ma chi ha dedicato la vittoria, Presidente, alla qualificazione degli ottavi? Dedicata ai diffusi naturali, ai più qualità che i cazzi. Loro se la merita, abbiamo lavorato per loro e quindi sono contento che siano festeggiati. I feri vuol dire anche gli ottavi, gli ottavi, gli ottavi, gli ottavi, gli ottavi, gli ottavi. E' certo. Ma sì, adesso ci abbiamo anche da respirare fino al 15 febbraio, quindi possiamo anche fare qualche recuperino dovuto il campionato. Ci ripeto in diretta che è successo degli spogliatoi? Negli spogliatoi mi hanno tirato per aria e mi hanno rovissato addosso qualche cosa, acqua, champagne, Coca-Cola. Lei se l'ha fatto fare da questa situazione? Ma come me non ce l'ha fatto fare? Era un tornado, era una furia, era un tornado di felicità. C'è Maggio, Maggio cosa hai fatto al Presidente, tu proprio in particolare? Cosa hai fatto? Un po' di acqua, io ho buttato in acqua. Solo acqua? Sì, avevamo solo qui. Sì, avevamo solo qui. Sì, avevamo solo qui.